del pomeriggio. La mattinata continua con l'intervento del rettore dell'Istituto Italiano di Criminologia e degli Studi di Vivo Valencia, docente di Criminologia e di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, in un corso di laurea che è veramente molto bello questo istituto, ho avuto il piacere di visitarlo qualche anno fa pre-Covid, mi pare, ad un evento organizzato dal professore Saverio Fortunato perché si respira proprio l'aria degli appassionati della scena del crimine, anche tradizionale, con riproposizione di stanze quasi, ecco, sembra di viaggiare in alcuni momenti nella storia, ecco, nel museo. Ringraziamo quindi il professore Saverio Fortunato che si occuperà di etica e filosofia nella captazione per fini di giustizia. Io intanto ringrazio coloro i quali hanno reso possibile la mia partecipazione qui, sono stato invitato come rettore, come, diciamo, abilitato all'insegnamento della filosofia, perché come criminologo ormai sono stato fatto fuori dalla psicologia, che ormai sono tutti criminologi, anche se non ci sono i corsi di laurea specialistica in criminologia. E quindi mi aggrappo alla filosofia. La filosofia, io circa un mese fa abbiamo presentato un mio libro e un librettino sull'intelligenza artificiale alla Camera dei Deputati con il prefetto Rizzi, che è il vice capo, come sapete, il vicario della polizia, e siccome prima ancora avevamo presentato un suo libro, Investigare 4.0, all'Istituto di Criminologia, ho scoperto che questo prefetto, uomo eccezionale, parlava di filosofia. E allora io gli ho chiesto, ma spesso quando si parla di filosofia si pensa che sono cose vecchie, cose che appartengono al passato, cose ormai la società è andata avanti. E lui mi ha detto, beh, questo discorso sarebbe un po' come se noi prendessimo il teorema di Pitagora, tutta la parte pitagorica della matematica e la buttassimo a mare perché Pitagora è nato nel 570 avanti Cristo. Quindi ha fatto capire come il ragionamento e la competenza del ragionamento, se non è ancorato a una storia del pensiero scientifico, spesso rischia di parlare in libertà. E allora, dato il tema che mi è stato dato, etica e filosofia, nella capitazione per fine di giustizia, mi limito, come dire, brevemente a dare degli input da un punto di vista epistemologico sul lavoro delle intercettazioni. Primo, ad esempio, ecco, sull'etica. L'etica che secondo me sta alla base della criminologia, del diritto, del diritto penale e dell'investigazione, è quella kantiana. E cioè, l'etica è che noi dobbiamo agire in maniera tale che dalla nostra azione si possa avere una legislazione universale. Cioè, quello che io pretendo dagli altri deve valere anche per me e quello che vale per me deve avere una valenza anche per gli altri. E questo è il primo criterio di etica. E il secondo criterio, sempre da Kant, è che il fine dell'investigazione, del sapere, della conoscenza deve essere l'uomo. E quindi, anche quando noi ci approcciamo con la perizia fonica o con altri tipi di perizie, eccetera, o con ragionamenti giuridici, dobbiamo tenere presente che il fine è sempre l'uomo. E quindi è l'uomo al centro del processo. Non è la scienza. Invece oggi c'è questa tendenza nella società e anche nel processo penale che tutto sta diventando scientifico. Tutto è scienza anche all'università, perché ormai c'è la scienza del fiore, c'è la scienza del benessere del cane e del gatto. Tutto è diventato una scienza. È chiaro che se tutto è scienza, niente è scienza. E allora cominciamo a recuperare qualcosa dall'epistemologia, cioè la scienza innanzitutto non è interessata alla risposta giusta, non cerca la risposta giusta. Cerca di evitare la risposta sbagliata. E quindi in perizia noi non dovremmo essere assillati dalla risposta giusta. Dovremmo preoccuparci di evitare l'errore, cioè di allontanarci il più possibile dall'errore, cioè di evitare la risposta sbagliata nel lavoro di perizia che facciamo. Poi mi pare che la perizia fonica, è un po' le cose che ha detto il procuratore, mi pare che ha insinuato il dubbio, cioè ha messo dei criteri che sono dei criteri riconducibili alla scienza. Cioè quando dice tu il traduttore interpreta o traduce, cioè quello è un dubbio, il dubbio è fonte di conoscenza. E qual è allora il problema? Intanto dobbiamo capire che questo tipo di perizia non utilizza il metodo, utilizza più metodi, almeno due, cioè utilizza un metodo che è dato dallo studio degli spettrogrammi e utilizza il metodo poi del traduttore che ascolta e traduce. Giustamente il procuratore dice ci vuole una specializzazione, cioè ci vuole una grande competenza per evitare l'errore, quindi è un discorso scientifico che fa, magari lo fa involontariamente per la sua cultura, però è un discorso filosofo, è un discorso scientifico perché evitare l'errore fa parte della scienza, la scienza serve a questo. Vedete prima di Galileo Galilei la scienza era una scienza d'autorità, cioè chi osava mettere in discussione un precetto della scienza finiva a rovo, è stato così per Giordano Bruno, Galileo Galilei è stato processato due volte e così via, cioè anche oggi c'è questa tendenza a ritenere che se è una cosa scientifica tutti alziamo le mani perché se lo dice la scienza, però la scienza dal novecento a oggi, da popper in poi, è basata sul dubbio. La scienza procede per tentative ed errori, quindi l'assillo, l'angoscia dell'uomo di scienza è trovare l'errore, evitare l'errore, allontanarsi il più possibile dall'errore e questo è l'atteggiamento dello spirito che bisogna avere da scienziati, da periti, da giuristi eccetera, allontanarsi dall'errore. Perché è vero quello che dice Voltaire, cioè il problema non è se la fa franca il colpevole, il problema è se condanna ingiustamente l'innocente, questo è l'errore ed è questo l'assillo. Quindi evitare che un innocente venga incolpato ingiustamente per la scienza, perché poi passa per scienza, anche ciò che scienza non è, perché se non dubiti non sei scientifico. Spesso invece noi utilizziamo ad esempio anche nell'investigazione, in perizia, non una metodologia del metodo, ma una metodologia del risultato. Cioè prima ti fai un'idea settizia, colpevole o innocente e poi cerchi una strada per dimostrarlo. E così non è scientifico, così non è niente di scientifico. E un altro problema, vedete nelle scienze mediche, quando si fa una diagnosi, la diagnosi deve soddisfare tre criteri scientifici. Cioè deve essere unica, specifica e sensibile. Unica perché si riferisce al tipo di malattia che io cerco e mi deve dire se c'è o non c'è. Specifica perché mi deve anche escludere che se c'è quella malattia non ce ne sono altre e quindi si concentra solo su quella. Sensibile perché mi deve dare la certezza che quella malattia c'è. Ora, questi tre criteri della diagnosi medica non sempre sono nelle perizie, nemmeno a volte nelle perizie medico-legali. E invece perché? Perché quello che gioca molto nel ragionamento della competenza è il pregiudizio. Ora, se approcciarsi a un'intercettazione, cioè approcciarsi a una voce che si ascolta, significa capire quello che viene detto, questo apre le porte a quello che in filosofia si chiama è un processo ermeneutico. E cioè non è solo un problema di comprensione, cioè capire che cose dice Tizio. Non è solo un problema di capire cose dice. E un primo problema è capire. Un secondo problema è di evitare i fraintendimenti. Il terzo problema è evitare o allontanarsi il più possibile dall'errore e poi passarla a un altro, in questo caso passarla al giudice. Però nel momento in cui tu una cosa oggettiva, cioè una voce registrata, la rapporti al soggetto, il soggetto la soggettivizza, passandolo poi a un'altra persona, aggiungi qualcosa o togli qualcosa e quindi diventa qualcos'altro. Ecco perché ad esempio Nietzsche diceva non esistono fatti ma interpretazioni. Perché anche le interpretazioni ricorrono sempre al linguaggio. Equivale quello che diceva prima il procuratore, cioè che il linguaggio non solo dei giovani, in generale. Il linguaggio è tanto più ricco quanto una persona ha più idee. Si ha idee per quanto il linguaggio è forbito. Più è ricco il linguaggio, più idee si hanno. Con l'informatica nelle scuole le idee si riducono, il linguaggio si impoverisce, 50 vocaboli, 60 vocaboli. Ed è evidente che se tu non hai le parole, se tu hai un'idea, devi trovare le parole per esprimerla, per raccontarla, se no come fai? E andiamo al discorso anche del quando tu ascolti qualcosa di qualcosa e ti approcci a questo ascolto. Quando ti approcci le percezioni, cioè tu percepisci che quel suono è questo, quella voce è questa o addirittura che due voci comparate sono le stesse. Ma qui bisogna, questo vale per tutte le perizie, cioè che la comparazione deve avvenire sempre tra elementi omogenei e coevi. Ti avvicina all'errore, non ti allontani se tu fai una comparazione tra una voce di tre anni fa e una voce di oggi, che tu presumi che siano sempre la stessa persona. Cioè che sia la stessa persona, non deve essere la perizia a dirlo, deve essere l'investigazione, se è lui che parla o no. Perché io ad esempio ho visto, vi cito due studiosi su questo fenomeno. Uno è il professor Berri del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Cambridge, il quale dice nel riconoscimento vocale automatico un criterio metodologico consiste nel tenere conto delle differenze sistematiche di vocale in una data realtà geografica regionale e locale. Lui poi suddivide l'analisi in due fasi e insomma conclude dicendo, evidenziare il problema che l'intercalare, l'accento regionale, la pronuncia o il difetto di pronuncia e vi elencando, sono variabili difficili, se non impossibili da classificare e ancor meno con assoluta certezza. La dottoressa invece Francesca Mancusa, che è una ricercatrice del progetto RISE, un progetto RISE è l'iniziativa finanziata dalla Commissione Europea per la gestione e il coordinamento dei sistemi di riconoscimenti basate sull'identificazione biometrica, non solo a livello europeo ma mondiale, e a questo progetto hanno partecipato l'Europa, gli Stati Uniti, l'India e la Cina. Ha concluso la sua relazione di ricerca dicendo, i sistemi biometrici basati sul riconoscimento vocale considerano alcune caratteristiche del linguaggio parlato, quale la velocità, la frequenza, la struttura e la densità delle onde sonore. La tecnica si basa sull'uso di un microfono e di un programma per l'elaborazione dei dati. La possibilità di errore è elevata perché la voce e il modo di parlare sono legate a numerosi fattori fisiologici e comportamentali, tale da indurre continui cambiamenti. Basta ad esempio un raffreddore o un'arrabbiatura per alterare le caratteristiche della voce. Per questo motivo il riconoscimento vocale andrebbe affiancato ad altre tecniche. Ora, sia questa ricercatrice europea, sia questo professore dell'Università di Cambridge, giungono allo stesso risultato. Cioè lo stesso risultato è che se noi compariamo due voci possiamo individuare l'area di provenienza, l'area geografica, ma non possiamo accertare l'identità. Cioè non possiamo dire che tizio è tizio. Possiamo dire che tizio, con quella parlata, con quella cadenza, con quell'accento, proviene da questa o da quest'altra area geografica. Questi sono gli studi, poi magari gli studi nostri dell'Università Italiana, che io non conosco, però magari altri relatori li conoscono meglio di me, li possono dire. Però non è tanto questo, ma il problema è appunto il dubbio. Cioè fondare lo studio e l'aperizia sul dubbio e diffidare dalla scienza, mentre qui stiamo andando di nuovo a prima di Galileo Galilei. Cioè si sta instaurando una scienza d'autorità. Sta diventando tutto scienza. L'aperizia, il processo, la società con l'intelligenza artificiale che annullerà l'intelligenza e la presenza dell'uomo perché verremo sostituiti dai robot umanoidi che ormai con la superintelligenza sono talmente intelligenti che noi non riusciremo nemmeno a competere con la loro, ci dovremo difendere. E anche la guerra, come annuncia ad esempio la CIA, che ormai si dovrà svolgere soltanto con le tecnologie, quindi comandata da Washington, però che vanno e sparano in Russia, per dire, senza pilota, senza più esercito. Cioè effettivamente sta cambiando il mondo. Ecco, l'approccio che noi dovremmo avere è che se noi confidiamo nella scienza, cioè una scienza onnicomprensiva, come lo è stato ad esempio il positivismo, il rischio del positivismo quando c'era una fisicalizzazione, una matematizzazione del mondo, e ora si ripropone l'algoritmizzazione del mondo, il rischio che noi corriamo è di perdere di vista il senso delle cose, cioè qual è il senso di studiare ancora gli effetti distruttivi della bomba atomica se già può distruggere la Terra 10.000 volte. Cioè qual è il senso scientifico di approfondire ancora queste ricerche? Qual è il senso scientifico di fare un carro armato con la guida autonoma, col pilota automatico? Se la macchina col pilota automatico nel Texas ha messo sotto un pedone perché l'ha ritenuto non significativo, non importante. E qual è il senso? Cioè il rischio è questo, che con le nuove tecnologie si rischia, come nel positivismo, di perdere il senso e si rischia di perdere di vista l'uomo. Ecco perché le parole che ha detto prima l'Avvocato Fiammella mi hanno rincuorato e mi ha dato il senso anche dell'intervento. Per cui vi ringrazio. Grazie professore per queste sue interessantissime riflessioni che ci portano a focalizzare l'attenzione sul fatto che con la tecnologia noi stiamo entrando dentro, con l'intelligenza artificiale, dentro forse una nuova era di cui non conosciamo bene i rischi. Io sono sempre stato un sostenitore dell'idea che prima di programmare, prima di lanciare sul mercato determinati prodotti occorre purtroppo filosofeggiare intorno. Cioè occorre come uomini del dubbio interrogarci e capire dove ci porterà quel tipo di progresso